buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno e bentornati in un nuovissimo episodio dei bancomatti oggi abbiamo una bella bombettina la vediamo subito insieme allora partendo dal principio con scottex è nata una super promozione ovvero aspettate che stringo un po la schermata la promozione si chiama più valore al pulito allora questa promozione qua ci permette di ottenere un buono da 10 euro con l'acquisto di un pezzo di scottex ok diciamo il succo è questo questi buoni da 10 euro poi sono spendibili su un portale per gli acquisti di altri prodotti cioè davvero sembra un attimo meccanica ma è davvero facile allora acquistando un prodotto registriamo lo scontrino su questo sito che vi lasciamo poi sotto più valore al pulito come detto ogni prodotto vi da un buono da 10 euro poi sugli acquisti su quest'altro portale che vi facciamo vedere insieme potrete spendere fino a un massimo di 50 euro accumulabile a oggetto ovvero c'è adesso lo speriamo poi subito andiamo a vedere qua adesso vi spiego anche bene i regali poi delle promozioni i termini tutto e via allora come vedete poi il portale che si chiama regali per tutti vi lasciamo che qua sotto poi tutti i link ci permette di cumulare i buoni da 50 e i buoni fino al raggiungimento di 50 euro per l'acquisto di ogni oggetto poi c'è da pagare le spese di spedizione che sono all'incirca su 6 euro il 90 nel territorio italiano è qualcosa di più per le isole proprio poco più ci sono tre categorie ovvero casa e cucina bambini e famiglia bellezza e benessere andiamo a vedere per quanto riguarda casa e cucina troviamo la fetta verdure su 49 euro qua quindi dovremo caricare se non vogliamo pagarlo appunto 5 buoni smearci un euro tra virgolette e pagare i soldi della spedizione poi come vediamo l'aspirapolvere aspetta che stringiamo anche di qua sì 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 questo è un casino ok ritorniamo in casa e cucina aspirapolvere asse da stiro smart box anche qua completo letto bellissimo corsi per formazione ferro da stiro come vedete ce ne sono davvero dai più costosi ai più economici poi c'è anche una una disponibilità limitata dei pezzi quindi occhio se vi piace qualcosa sbrigatevi con la promo davvero smart box appunto tante cose per la casa ce n'è ce n'è anche qua toaster 2 scomparti rosso kitchen aid 129 euro ce ne rimangono 17 pezzi poi come abbiamo visto in passato anche con le altre promo questi portali poi vengono riassortiti diciamo a cadenza un po lunghe vengono comunque riassortiti per l'acquisto per cambiare anche un po qua siamo bambini e famiglia giochi acqua a spasso in europa smart box bello 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 biciclette peluche clementoni clan phone fitbit questo è un tablet si 50 euro chili giochi in scatola gabel completo lenzuolo una piazza dove valigettina american tourister no come vedete ce n'è di roba questo è più bello vacanza in famiglia questo qua permette permette di far viaggiare una famiglia intera diciamo poi ci sono sempre condizioni restrizioni disponibilità l'ultima categoria bellezza e benessere foto service amaze air style per me per i capelli questo font tanti prodotti ok benessere di coppia trus mondo corsi costa del boristeria epilatore c'è vediamo ora essendo appena partita è piena di cose pausa relax per due mi sa che la monica se gli porto questa ciao vabbè tanti altri prodotti come abbiamo detto ogni persona può affettare un acquisto registrando appunto lo scontrino su questo portal vero più valore al pulito acquistando un pezzo si registra lo scontrino si si mette la scansione si mettono i dati si riceverà in brevissimo tempo dicono anche dieci giorni loro ma non è arrivato molto prima un buono da dieci euro da spendere su questo portale qua il bello è che possiamo accumulare come detto prima cinque buoni per l'acquisto di un oggetto e poi aggiungere i costi di spedizione poi come dato importante dobbiamo entro 30 settembre abbiamo il tempo per caricare gli scontrini ottenere i buoni invece per la richiesta dei premi abbiamo tempo fino al 5 di ottobre modalità bancomatti allora abbiamo scoperto che nei conad c'è questa promozione bis prendi due paghi uno esatte 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 aspetta non abbiamo detto una cosa perché la carta scottex originale non va bene per questa promozione va bene per punto limitatevi a quello che vedete qua se avete comunque dubbi scrivete l'assistenza alla pagina facebook o se c'è un numero di telefono poi ve lo segnaliamo torniamo al conad dal conad delle nostre parti abbiamo visto che in molti posti c'è la carta scottex in offerta adesso vi spieghiamo il colpo che abbiamo fatto noi come vedete qua c'è due per uno vi confermiamo che caricando gli scontrini anche se l'acquistate col due per uno riceverete un buono del 10 per questo e un buono del 10 per questo quindi con un acquisto di 5 euro e 90 riceverete ci siamo capiti bene 40 euro di buoni ora vi faccio vedere subito la schermata che è arrivata prima a me l'ho già caricata qua sul portale per mettervi alla disposizione eccola qua controlliamo che si veda ok buongiorno michele nel campo sottostante trovi il codice del valore di 10 euro da utilizzare codice valore di 10 euro per 4 ma c'erano quattro codici ok quindi vi confermo che io ho comprato quattro pezzi pagato 5 euro caricato su e bam fatto il colpo la cosa bella che ora io vado a reinvestire questi soldi comunque per farmi dei regali e via ora chiudendo questa schermata vi volevo dire che il volantino del conad a parte altri concorsi e cose belle è valido dal 16 fino al 28 di maggio ora questo video lo monto al volo e lo sparo fuori a meno che tanta gente riesce ad arrecarsi prima della fine o magari non ne trova fa richiesta di prodotto però ci prova niente amici con questa bombazza io vi auguro tanto risparmio sono felicissimo per voi se riuscite a portare a casa e o magari ai vostri cari qualche bel regalo comunque a costi contenuti che magari vi avrebbe fatto riflettere sull'acquisto futuro però dai siamo felici siamo contenti un cashmere bancomatti un saluto ad amici da foodscare e la banco famiglia ciao ehi grazie per essere arrivato in fondo a questo video se clicchi sul pulsante qua di fianco attivi l'iscrizione e clicchi sulla campanella noi bancomatti saremo sempre felici di avvisarti su un nuovo episodio una nuova promo o un'altra modalità per risparmiare rimani con noi ciao ciao